e benvenuti benvenuti alla puntata di oggi di stampa evangelo la seconda puntata della nuova edizione del nostro programma io intanto vi ringrazio davvero per l'affetto che avete dimostrato ieri alla ripresa di lunedì senza particolare battage abbiamo toccato 8 mila persone con la puntata sia in diretta che indifferita e quindi davvero grazie grazie a Emanuela Bongiruppi del coordinamento editoriale insieme a Francesca Centofanti vedo che è arrivata a Mary Rossi buongiorno buongiorno a Fabrizio Canestrari a Giulio Suardi davvero grazie a Emanuela Miraglia Lorenzo Casi siete già molti allora vi chiedo fin da subito c'è Paul Freeman oggi protagonista di un articolo molto importante su buona scuola e disabili sul quotidiano La Croce a sua firma c'è Fabio Ceseri c'è Lello Melillo grazie davvero a tutti voi vi chiedo non solo un mi piace e un condividi c'è Sara Deodati che saluto e la moglie di Giuseppe Brienza Giuseppe ieri mi segnalava che non riusciva a fare le condivisioni e c'è stata una difficoltà ieri sulle condivisioni speriamo che oggi la questione sia risolta saluto Cesare Fanfani il nostro grande Giovanni Fiori che si deve impegnare a Ostia saluto Chiara Cirinna Susi Esti Mira D'Angelo Vladimiro Campello del popolo la famiglia del Friuli Venezia Giulia Giovanni Amoroso Ninnarello Massimo Fiorini Antonio Cassaneti Leonardo De Stefano spero di aver citato già Cesare Fanfani Adelio Cavina grazie davvero a tutti voi dicevo se potete fate un mi piace e un condividi alla diretta di oggi mentre è arrivato anche Davide Incandela da Palermo Domenico Di Cugno Antonella Bagno non solo un mi piace e un condividi se potete invitate direttamente i vostri amici a seguire la diretta con il tasto invita con questo accorgimento magari riusciamo anche a girare le eventuali difficoltà di condivisione saluto Don Francesco Colamonaco Corrado Salonia Mario Leonardo Carla Stefanini Simon Pietro Carta Luigi De Novellis Federico Pieroni che è appena arrivato Sebastiano Parafioriti mi dicono qualche volta che quando faccio l'elenco di tutti gli amici che stanno arrivando sembra quasi che io stia facendo l'appello ma insomma a me fa piacere davvero salutare per più che posso uno per uno i protagonisti perché i protagonisti siete voi con la discussione che animate tutti i giorni Anna Russo, Anna Del Guerra, Alberto Cerutti nostro candidato sindaco a Borgo Manero con splendido risultato che ha sfiorato il 3% e conduttore di Popolo della Famiglia TV, Silvia Lucchetti anche lei condottrice di Popolo della Famiglia di Popolo della Famiglia TV, Chiara Cirinna l'ho già citata, c'è Maurizio Cipri, allora vi chiedo davvero un mi piace, un condividi sulla vostra pagina e poi di invitare direttamente i vostri amici a seguire la diretta di oggi di Stampa e Vangelo dopo l'enorme successo di ieri, lo ricordo, 8000 persone a seguire in diretta e indifferita le cose che abbiamo da dire e quindi forse qualche seme è stato seminato su un tema estremamente complesso come era quello della coppia gay scoppiata insomma che peraltro oggi è oggetto dell'editoriale del quotidiano La Croce firmato da Davide Vairani, vi chiedo sempre anche di seguire il quotidiano La Croce e chi può di abbonarsi per sostenerci perché se dovessimo arrivare a qualche migliaio di abbonati in più potremmo anche immaginare il ritorno in edicola con il cartaceo del quotidiano La Croce, un obiettivo che abbiamo da molto tempo. È arrivato anche Filippo Fiani con Paola Porreca, con Emanuele Lobue, con Bobac Falamachi, cambio maglia perfetto, insomma la maglia rosa piace a Bobac, questa è una maglia un po' frufru facciamo così, vabbè fa vedere ma abbiamo diciamo così pregiudizi cromatici Giulia Viganò, Rubber Rifreddi, Piera Giacometti, Francesca Marzoli, Elena Taddei, Agnezza Gica, sono molto contento di trovare Agnezza qui in diretta con noi, andiamo a leggere il Vangelo del giorno, siamo nel Vangelo di Luca, prima di arrivare ai temi che sono propri della puntata di Stampe e Vangelo, sull'attualità e sulle questioni che più ci riguardano da vicino, ma sempre illuminate dalla lettura quotidiana del Vangelo. C'è chi rimprovera il fatto che io legga il Vangelo al mattino, ma io ricontinuo a credere che sia una lettura vivificante, prima di tutto per me e poi per le persone che hanno la bontà di seguire questa trasmissione che su questo si impernia, cioè sulla lettura dei fatti del giorno, illuminata dalla verità evangelica. Leggiamo insieme allora la pagina del Vangelo del giorno, dal capitolo sesto di Luca, i versetti sono quelli che vanno dal 12 al 19. In quei giorni Gesù se ne andò sulla montagna a pregare e passò la notte in orazione. Quando fu giorno chiamò a sé i suoi discepoli e ne scelse dodici, ai quali diede il nome di apostoli. Simone, che chiamò anche Pietro, Andrea suo fratello, Giacomo, Giovanni, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo d'Alfeo, Simone, soprannominato Zelota, Giuda di Giacomo e Giuda Iscariota, che fu il traditore. Disceso con loro si fermò in un luogo pianeggiante, c'era gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme, dal litorale di Tiro e di Sidone, che erano venuti per ascoltarlo ed essere guariti dalle loro malattie. Anche quelli che erano tormentati da spiriti immondi venivano guariti. tutta la folla cercava di toccarlo perché da lui usciva una forza che sanava tutti. È la parola del Signore di oggi, una forza che sanava tutti. È questo che ci anima, è questo l'incontro con Cristo, con la verità che rende possibile, perché sentiamo questa forza che ci sana, rende possibile il sacrificio, la fatica, la testimonianza della verità a spese della nostra dignità personale, persino visto le volte che veniamo additati, insultati. Ma davanti a noi abbiamo chi cura le nostre ferite, perché feriti siamo, perché sofferenze abbiamo, perché errori abbiamo commesso, perché siamo caduti, ma abbiamo trovato una mano di un amico disposto ad alzarci. Questo è un elemento cruciale della nostra testimonianza. È l'elemento fondamentale, sentiamo una forza che ci guarisce. come sempre la pagina evangelica serve a illuminare la lettura dei fatti che andremo a fare oggi di ciò che avviene. Oggi avete visto l'apertura della quotidiana alla croce, c'è una signora, una mamma, una giovane mamma di cinque figli che ha superato ieri il tremillesimo giorno in carcere. 3.000 giorni. 3.000 giorni. Allora, 3.000 giorni che Asia Bibbi è in carcere. Perché? Perché è cristiana. L'accusa è blasfemia. Tra 3.000 giorni questa mamma è stata sganciata, staccata, violentemente privata del rapporto con i suoi figli, condannata a morte e tenuta in un carcere pakistano da cristiana. Ricordo carcere pakistano dove in agosto, mentre noi facevamo bellamente le nostre vacanze e i giornali ignoravano, ovviamente come sempre, la notizia. Saluto Andrea Kavenaghi, un grande abbraccio a Katiuscia a Longobardi, saluto Ilenia Polsinelli, Alessandra Tumino, Terenzio Zagis, aver visto arrivare anche Massimiliano Amato, un abbraccio a tutti, a Mauro Turrini. Dicevo, mentre noi facevamo bellamente le nostre vacanze e i media ignoravano completamente il fatto, in un altro carcere pakistano alla Ore, un ragazzo di 38 anni, Indarias Gulam, padre di tre figli, veniva ucciso in carcere, gli avevano offerto la libertà se si fosse convertito all'Islam. Indariam ha rifiutato la conversione, non ha voluto rinnegare il nome di Cristo e per questo è stato ucciso in carcere. È il quinto cristiano che viene ucciso in carcere in Pakistan, insieme a quelle violenze enormi che conoscete, che sono violenze tipiche di un fondamentalismo islamico che addita i cristiani e ne brucia le case, ne brucia le chiese e li uccide per strada. E pretende l'impiccagione, oggi se andate sulla prima pagina della croce, vedete una foto scelta da Giovanni Marco Toglio, non a caso, di una manifestazione di fondalisti islamici, la cui effigie è la faccia di questa mamma che si chiama Asia Bibi, con un cappio intorno al collo perché ne chiedono l'impiccagione. D'accordo? Questo non avveniva duemila anni fa al Colosseo. Sta avvenendo ora, noi stavamo sotto l'ombrellone, il 13 agosto veniva ucciso Indarias Gulam, 38 anni, padre di tre figli, che non ha voluto rinnegare la fede cristiana, il giudice gli ha detto convertiti all'islam e ti liberiamo, lui non è voluto rinnegare Cristo, è rimasto in carcere ed è stato ucciso non duemila anni fa, oggi. Le storie sono infinite, qualcuno l'ho anche citata nell'introduzione di Stampevangelo di oggi, conoscete la situazione del distretto del Karabal in India, dove anche qui ci sono i sette arrestati del distretto di Odissa, dove anche qui sono stati uccisi 100 cristiani, stiamo guardando dell'India, confinante col Pakistan, 300 chiese sono state date alle fiamme, 6.000 case di cristiani sono state date alle fiamme, avete trovato mezza notizia su Indarias Gulam, su Asia Bibi, 3.000 giorni in carcere, su questi atti di violenza, sul governatore di Jakarta, capitale dell'Indonesia, signori governatore di Jakarta, capitale dell'Indonesia, che il 19 aprile cristiano perde le elezioni contro i fondamentalisti islamici e il 9 maggio viene incarcerato per blasfemia. Allora stiamo parlando di Pakistan, India, Indonesia e non stiamo neanche parlando di luoghi dove neanche puoi portare il crocifisso al collo, Arabia Saudita, questo è ciò che accade oggi. Avete sentito Gino Strada intervenire e dire qualcosa? Qualche parola da Amnesty International? Avete visto i commentatori dei giornaloni dire mezza parola su questo ragazzo ucciso perché cristiano? Perché aveva rifiutato la conversione coatta all'Islam? Vi rendete conto? 15enne ucciso, Anna del Guerra anche cita, 15enne ucciso dai stessi compagni di scuola perché non si voleva convertire all'Islam? Queste sono cose che accadono quotidianamente nel silenzio generale dei media. E allora Stampa e Vangelo, che è il luogo di rassegna stampa, oggi prova a portare a conoscenza del mondo che ci segue, per questo vi chiedo un mi piace, un condividi, invitate i vostri amici a seguire questa diretta perché queste notizie da altre parti non le trovate, non vengono raccontate. Noi proviamo a creare consapevolezza attraverso l'informazione che facciamo quotidianamente. Chiediamo un piccolo contributo che è un mi piace, un condividi e un invito ai vostri amici a seguire le dirette della PDF TV, del Popolo e della Famiglia TV e di Stampa e Vangelo che in questo momento state seguendo così gentilmente. Il lavoro da fare è questo, creare consapevolezza, perché creando consapevolezza facciamo controinformazione, cioè diamo informazioni su ciò che avviene, su ciò che è essere cristiani oggi. Nell'introduzione alla puntata di oggi ho anche scritto che è evidentemente imparagonabile con Asia Bibbi, con la vicenda di Indarias Gulam, con le sofferenze che passano i cristiani del distretto del Carabal, con le vicende indonesiane, però più modestamente stanotte, questa notte, a Rioloterme, Rioloterme è una cittadina dove il Popolo e la Famiglia ha preso il 15% dei voti, grazie allo sforzo di Mirko De Carli e dove terremo tra qualche giorno la festa nazionale della Croce e presenteremo il 23 settembre con Costanza Miriano, il nuovo libro che ho scritto si chiama O capiamo Moriamo, i cartelloni che annunciavano a Rioloterme, stiamo parlando dell'India, del Pakistan, dell'Indonesia, ma a Rioloterme annunciavano la festa della Croce, sono stati divelti e gettati in strada a Rioloterme, d'accordo? Un atto di violenza, un atto ennesimo di tentativo di impedirci di esprimere le nostre opinioni, di farle conoscere, sono stati divelti i cartelloni della festa della Croce, della festa nazionale della Croce a Rioloterme, ripeto, non è paragonabile con le tragiche violenze che ho citato finora, ma è un dato di fatto che anche lì qual è l'elemento che non sopportano? Non sopportano la libertà dei cristiani, va bene la libertà di tutti, tranne la libertà dei cristiani. Ecco Piera Giacometti che mi dice non c'è il tasto per condividere, perché? Io non riesco a capire perché alcuni hanno questa difficoltà. Allora chiedo a Piera Giacometti, a tutti coloro che non riescono a trovare il tasto condividi, di invitare i loro amici direttamente a uno per uno, un po' fastidioso, fa in vita, in vita, in vita, ma invitate così i vostri amici a seguire la diretta di oggi di Stampa e Vangelo. Dice Federico Pieroni la Croce dà fastidio, certo che dà fastidio, ma possiamo arrivare a un punto in cui ormai in questo paese, se diciamo una parola su Facebook veniamo bannati, non uno, 1, 2, 5, 10, 20, 50 di noi sono stati sistematicamente censurati e bannati, cioè negati nell'espressione della libertà, prevalentemente della libertà di parola garantita dalla nostra Costituzione. È possibile che a Riolo si crei una condizione di ostilità, ripeto, un contesto dove abbiamo preso il 15% e dunque siamo più che politicamente e democraticamente legittimati a tenere la nostra festa nazionale, si debba avere e subire questo atto di violenza che se fosse stato subito da un manifesto di Laura Boldrini sicuramente avremmo trovato le paginate di Repubblica che dicono offesa alla istituzione primaria della Repubblica. Noi dobbiamo con chiarezza avere consapevolezza di un fatto che stiamo proponendo qualcosa di evidentemente fastidioso e irritante, ma che allo stesso tempo se non lo facciamo noi, se non ci facciamo carico noi di questa testimonianza, questa testimonianza semplicemente non avverrà. Ci saluta Claudio Parisini, lo saluto anch'io, è arrivata invece Elisabetta Montanelli che saluto volentieri. Filippo Fiani è stato deferito alla zanzara, la loro polizia e la macchina del fango. So che ieri l'hanno cercato a Filippo, poi non credo sia andato in onda Filippo Fiani, ma comunque un abbraccio, anche lui passa come sempre gli articoli di Gayburg che lo insultano, ieri mi pare pure su Gay.it, la zanzara, stessa questione. Paolo Ruoto lo dice giustamente, per chiunque altro sarebbe intervenuto alla Dicos, oggi proveremo. L'evento è stato ieri notte, in cui è stato divelto appunto tutta la cartellonistica relativa alla festa nazionale della Croce di Riolo Terme e oggi cercheremo di sensibilizzare, vedremo se qualcuno si porrà il problema del fatto che una festa nazionale di partito viene in questa maniera oltraggiata. Fosse a successo la festa dell'unità, che sarebbe accaduto? Maria Verita Boddi dice condividete e mettete mi piace anche più volte perché ciò aumenta la visibilità del video. brava Maria Verita, saluto anche Mari De Cristofaro, saluto Paolo Bertozzi, a Riolo Terme ci sono tantissime belle persone, uniamoci per difendere la libertà di espressione per tutti. Intanto Evergheno ci racconta della grande serata del popolo della famiglia di ieri a Bassano del Grappa con Mirco De Carli, il radicamento del popolo della famiglia comune per comune sta proseguendo con un lavoro davvero straordinario, ci rimettiamo in moto tutti quanti, ognuno organizzi serate, iniziative, se non ve lo fanno fare come popolo della famiglia c'è la presentazione del libro che è una modalità per avere un'iniziativa che magari non ha il marchio di partito ma prevede così la possibilità di parlare comunque anche in alcuni contesti dove magari il simbolo di partito è irritante per alcuni. Facciamo la presentazione del libro, pertanto all'interno del libro c'è un capitolo tutto relativo al popolo della famiglia e così insomma in qualche modo si aggirano alcune pruderie di alcuni contesti. Claudia Patruno di Cugno dice a me non lo pubblica, ho tentato per tre volte, evidentemente c'è qualche ostacolo evidentemente che porta a frenare la nostra capacità di far condividere questo nostro video però voi fate quello che potete e soprattutto, l'ho detto, invitate direttamente i vostri amici a partecipare alla diretta di oggi. Paolo Ruoto ricorda che oggi è il santissimo nome di Maria qualcuno ha detto il mio onomastico, in realtà io sono legato un po' a San Mario, martire, 19 gennaio però insomma ringrazio chi ha fatto gli auguri. Alex Zino, Daniela Tascini dice l'invidia è uno dei sette vizi capitali, mi dispiace per loro che non lo capiscono ma noi andiamo avanti sempre in lotta, arrivato dal professor Omar Ottonelli di Arezzo sarò ad Arezzo a presentare il nuovo libro, o capiamo moriamo, il 6 di ottobre saluto Francesca Patuzzi, saluto Alexandra Tumino, Orazio Filippelli Vladimiro Campello è riuscito a fare la condivisione con altre 70 persone insomma questo in qualche modo mi consola. Francesca Patuzzi dice tanti mi chiedono cosa pensa il pdf su euro e altre tematiche abbiamo dei 26 punti programmatici molto precisi, molto analitici tra l'altro saranno contenuti in o capiamo o moriamo in maniera abbiamo un unico testo che può circolare e essere d'aiuto per la campagna elettorale saluto anche Cristina Zaccanti che è arrivata, Domenico Trombino, Francesca Impaccio Orazio Filippelli dice si irritano per il simbolo del popolo e della famiglia se ne facciano una ragione ed è giusto così saluto Alessandra Mondelli, la salernitana trasferita in Piemonte particolarmente cara a me perché anche io ho la radice salernitana anche se vivo fuori da Salerno Sara Deodati dice che lei ha condiviso agevolmente quindi questo vuol dire che alcuni ci riescono, alcuni no bisognerà capire proprio tecnicamente qual è il problema che ci ostacola nella costruzione delle nostre dirette mattutine saluto anche Don Francesco Morcavallo che è arrivato in questo momento ricordo l'apertura della quotidiana La Croce di oggi sui 3000 giorni, ripeto, 3000 giorni di incarcerazione di Asia Bibbi la puntata l'abbiamo dedicata alle violenze che subiscono i cristiani saluto anche Maria Angelini, saluto Gennaro Salsano, saluto Nino Iraci grazie Mario per il prezioso servizio informativo che ci fornite è proprio vero che la cupola ideologica finanziaria che spadroneggia sul pianeta vuole sopprimere il cristianesimo è un elemento di riflessione quando io dico che la trasmissione la facciamo insieme è proprio perché questi elementi di riflessione sono determinanti per il successo di Stampa e Vangelo che è una trasmissione che ha una dimensione di intelligenza collettiva saluto Orietta Sicoloni, Faustino Cogliandro, Roberto Bruno, Arianna Prea Dennis Burton, saluto Angelo De Santis saluto tutti in particolare quelli che ci daranno una mano nei prossimi 180 giorni e condivideranno la nostra avventura Emanuella Pongi Luppi dice per agevolare le condivisioni delle dirette di PDF e TV il nostro prezioso Guido Mastrobuono sta preparando un manuale di istruzioni perfetto, brava Pongi saluto Corrado Salonia che dice dobbiamo fare le dirette verso le 20 avremmo molte più persone questa è un'idea che possiamo valutare saluto Prisca Vegni saluto Paola Perissinotto Domenico Di Cugno Leonardo Cammarano siamo sconfortati per quanto sta succedendo in Italia invece di essere sconfortati siate impegnati iscrivetevi al Popolo della Famiglia diventate militanti del Popolo della Famiglia diventate luogo di alternativa possibile a ciò che vi sconforta c'è Doardo Leone cioè il nostro Danilo Leonardi che è arrivato col suo terzo profilo imbavagliato due volte sia come Danilo Leonardi che come Leoni da Centurone e che ci sottolinea che anche un parlamentare del PD Adagora ha detto che i social non sono sottoposti alla Costituzione questo è un male saluto Alberto Mori Pippo Imbesi preziosissimo dirigente del PDF di Roma Michela Pacello Vita Domenico Flume Di Nisi saluta la mia sorella Mariella che mi ha fatto conoscere il Popolo della Famiglia la saluto assolutamente volentieri Michele Granata Paolo Spaziani Luigi De Novellis che chiede i punti del programma e come iscriversi troverai su internet i 26 punti programmatici c'è anche un articolo che mi sembra si chiama Le cose da fare una cosa del genere sulla Croce Quotidiano con tutte le modalità per iscriversi al Popolo della Famiglia Federico Pieroni dice basta piangerci addosso tiriamo fuori la grinta saluto Giuseppe Focone Danilo Leonardi dice mercoledì alle 20 ci sono io in diretta giustamente il suo spazio quindi Danilo Leonardi sul PDF di V mercoledì alle 20 quindi domani non perdetevi la puntata su PDF di V Danilo Leonardi c'è Don Luca Giansante che saluto Andrea Dolcini Mario Sortino Emanuele Velasco Gabriella Maiglia protagonista dell'organizzazione della serata di Arezzo del 6 ho già citato ci vedremo il 6 ad Arezzo il 7 a Forza delle Marmi il 20 a Terni forse il 30 settembre a Bari come vedete stiamo organizzando davvero un tour per incontrarci in tutta Italia Corrado Salonia ci racconta di ciò che avviene in Sicilia con Giovanna Arminio è arrivata anche Francesca Centofanti con Massimiliano Esposito Angela Ciconte Giuseppe Focone tutti i dirigenti del popolo e della famiglia sparsi in tutta Italia mi fa piacere passare da Napoli a Torino Focone Ciconte passando per Mantua con Massimiliano Esposito insomma davvero tutta l'Italia salutando anche Beatrice Corda Irene Stagliano il nostro coordinatore nazionale Nicola Di Matteo la Pongiluppi ricorda l'esordio di Danilo Leonardi alle ore 20 su Popola Famiglia TV dentro i fatti questo il titolo della trasmissione sempre puntuale e il coordinamento ideoriale di Francesca Centofanti Emanuele Lappongiluppi e Leuteri saluto Alex Zino Rosa Eleonora degli esposti Elio Gentili Federico Pieroni mi propone le 21 quando la gente è più rilassata ma sta su internet la gente alle 21 vuole vedere la televisione beh questo è un punto di domanda però sicuramente sperimenteremo faremo un tentativo vedremo che numeri si fanno alle 21 o magari alle 21.30 una prima serata un prime time di Popola Famiglia TV vediamo adesso con il coordinamento ideoriale di immaginare qualche sperimentazione da questo punto di vista vi ringrazio molto per la partecipazione alla puntata di oggi saluto anche Alessandra Bertozzi allora Simon Pietro dice non alle 20 ma alle 19.30 perché alle 20 la gente vede il Tg ci siamo spostati via avanti diciamo intorno alle 21 21.15 dai diciamo così Anna Del Guerra dice ci stiamo organizzando per accoglierti qui in Versiglia non vediamo l'ora caro Mario non vedo l'ora io di arrivare da voi a Forte dei Marmi ricordo 7 di ottobre l'appuntamento con gli amici della Versiglia di Viareggio di Forte dei Marmi in quella zona ci troviamo il 7 di ottobre saluto Francesca Patuzzi domani ricomincia la scuola guarderò indifferita saluto Alberto Agus il leader del Popola Famiglia in Sardegna è arrivato anche Giuseppe Brienza protagonista oggi di ben due articoli sul quotidiano La Croce Mauro Turrini aspetta tutti a Riolo ricordo che il 19 settembre chiudiamo le iscrizioni per gli alberghi per Riolo quindi fate riferimento a tutti i numeri che abbiamo sempre pubblicato sul quotidiano La Croce sempre pubblicato anche qui su Facebook per dare la vostra partecipazione alla festa nazionale della Croce saluto Sergio Ponticelli che chiede benedizioni per quello che faccio Dio ti doni la forza costante e perseverante nell'espressione del Popola Famiglia grazie davvero Bobak Falamachi dice dovremmo essere sovrapponibili ai TG questa deve essere anche un'idea non trascurabile quello che sicuramente dobbiamo fare è costruire la dimensione della controinformazione del Popola della Famiglia rispetto a ciò che l'informazione chiamiamola mainstream fornisce ignorando completamente le notizie come quelle che abbiamo dato oggi 3.000 giorni di carcerazione di Asia Bibi la uccisione di un ragazzo di 38 anni padre di tre figli perché si è rifiutato di convertirsi all'Islam nel carcere di Lahore in Pakistan 5 uccisi per la loro fede cristiana sempre in carcere in Pakistan 100 uccisi nel disletto del Caraballo in India le violenze che subiamo in Indonesia e quella piccola vicenda che però per noi è una vicenda molto rilevante di questa notte in cui i cartelloni della festa della croce che si terrà dal 23 settembre a Riolo Terme sono stati divelti di notte buttati via gettati in strada a Riolo Terme e questo lo riteniamo un atto vandalico inaccettabile che merita credo una riprovazione evidente e cercheremo anche attraverso i media i media tradizionali con le comunicazioni che ci saranno da fare di sottolineare questo atto violento l'ennesimo atto violento che il popolo della famiglia è costretto a subire in negazione del suo diritto alla banalissima libertà di espressione Giancarlo Stival dice fatti sentire in tv ieri ho fatto un'intervista radiofonica se volete potete trovarla sul mio profilo facebook qualche post più giù che è un'intervista anche abbastanza puntuale Cristina Zaccanti ricorda giustamente Serafino Ferrino un simbolo per il popolo della famiglia vittima di un picchiatore quest'estate proprio preso a cazzotti da un ragazzo per strada che l'ha avvicinato l'ha mandato all'ospedale con lesioni guaribili in 15 giorni Serafino Ferrino già sindaco di un comune piemontese vicino anzi assolutamente del popolo della famiglia che è stato picchiato per strada quest'estate come dice l'avvocato Amato cita giustamente il nostro segretario nazionale Rosa in onore degli esposti come dice Gianfranco Amato la fede a costo zero è finita Cinzia Gioia arriva e chiede scusa per il ritardo per carità ma c'è sempre la differita per chi arriva in ritardo Corrado dice il canale alternativo russo potrebbe essere usato al posto di Facebook ragazzi Facebook ha 30 milioni di italiani sulle pagine quindi è uno strumento inevitabilmente dobbiamo usare quando 30 milioni di italiani saranno sul Facebook russo potremmo fare valutazioni diverse Faustino Cogliando dice segno che il PDF cresce e comincia a contare e dare battaglia vi ricordo che quest'estate tanto Serafino Ferrino mi ricorda Cristina Zaccanti è presidente del circolo territoriale di Ivrea e del Canavese Anna Russo intanto va a messa perché alle 9 del mattino hanno cambiato l'orario delle messe e dunque sta andando a messa vi saluto e vi porto con me grazie a Anna Russo saluto anche Guido Pianeselli che è appena arrivato insieme a Daniela Scavorili e a Dalino Bassan dicevo quest'estate è stata anche l'estate in cui due sondaggi per la prima volta uno del Corriere della Sera e uno di Libero hanno cominciato a sondare il livello di consenso del popolo e della famiglia curiosamente mettendoci insieme a fare che sarebbe il partito di Tosi però curiosamente c'è una dizione fare più popolo della famiglia che viene valutata al 6,7% in Veneto e al 4% in Lombardia quindi poiché in Lombardia fare non esiste sostanzialmente e in Veneto esiste in maniera concreta solo a Verona ci siamo detti evidentemente se i sondaggi di Corriere della Sera e Libero finalmente cominciano a evidenziare la forza del popolo e della famiglia facendola uscire da quella casella altri dovevamo sempre piazzati in questi mesi in i 20 mesi di vita che abbiamo avuto fino adesso vuol dire che qualcosa è davvero cambiato nei livelli di consenso che ha il popolo e la famiglia in Italia ripeto percentuali che danno un 4,5% medio su un territorio in Lombardo Veneto che riguarda 15 milioni di persone ricordo quindi se siamo al 4,5% su un territorio di 15 milioni di persone possiamo pensare che l'obiettivo del 3% nazionale non è un obiettivo non è un obiettivo difficile da centrare se ci impegneremo ovviamente come pazzi fino alle elezioni politiche mi pongono domande sulle tasse ragazzi hanno poste pure a Gesù Cristo e sapete che se l'è cavata bene con la risposta su Cesare e Dio quindi non mi fate minima cosa rispetto a Gesù e vale la risposta di Gesù Nicola Di Matteo dice facciamo crescere il pdf non solo sui social network ma parlando tutti i giorni con le persone che incontriamo e conosciamo andiamo alla persona con il cuore bellissima questa espressione di Nicola Di Matteo andiamo alla persona bellissima espressione e andiamo a incontrare le persone davvero Mira D'Angelo dice tanto vero verso il pdf ma forza siamo sulla buona strada saluto Marco Margherita è arrivato anche il nostro amico Roberto Mura è arrivato Mauro Rotunno protagonista con Silvia Lucchetti della trasmissione del lunedì di Popola Famiglia TV cioè post per te se non ricordo male il titolo allora vi chiedo per un'ultima volta un mi piace un condividi la diretta un invita i vostri amici a seguire la diretta stessa perché con questi strumenti riusciamo a toccare molte persone e come ieri ieri abbiamo toccato 8000 e parlare a 8000 persone in un giorno di argomenti così densi e pregni è un privilegio di cui sicuramente ringrazio anche lo strumento che ci permette di fare tutto questo finché non ci imbavagliano un'altra volta diciamo così finché non arriva il nuovo bavaglio è arrivato anche Federico Tantillo che salutiamo noi come sempre a ridosso delle nove lasciamo la linea per certi versi idealmente a Radio Maria perché Padre Livio dalle nove fa la sua rassegna stampa e non vogliamo sovrapporci con la nostra a quella fondamentale di Padre Livio dunque salutando anche Paola Campesi che è appena arrivata alla diretta insieme a Roberto Mura che ho già salutato ad Anna Del Guerra vi chiedo appunto l'ultimo mi piace e condividi intanto vieni Clara vieni 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 a salutare vieni 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 a salutare tutti gli amici così fa il saluto anche te in diretta vieni che amore intanto si è svegliata appunto anche Clara ancora due giorni senza scuola eh siamo qui ciao saluta tutti eccoci qua ciao è arrivato anche fratello Antonio Giannaccone che saluto con un abbraccio dei fratelli delle scuole cristiane a cui dovete molto perché la mia formazione è quella dei fratelli delle scuole cristiane otto anni all'istituto Pio IX retto appunto dai fratelli delle scuole cristiane saluto anche Renzo Stefarella che insieme ad Antonio Brescia è appena arrivato in diretta Anna Ciappa dice bellissima Clara adesso non datele troppa confidenza sennò qui succede un pandemonio e vi ringrazio molto e vi ringrazio molto comunque per tutti coloro Bobak Falamachi Manuela Rubue Corrado Salonia Simon Pietro Carta Federico Pieroni Rosa Eleonora Agli Esposti Alessandra Tumino che salutano la mia figlia minore Piana Giacometti io intanto saluto voi vi ricordo un mi piace un condividi alla diretta più persone possibili in questa maniera potranno avere notizia di Asia Bibbi potranno avere notizia dei morti incarcerati in Pakistan perché si rifiutano di convertirsi all'Islam e non rinnegano il nome di Gesù Cristo sapranno qualcosa in più del distretto di Carabal 100 cristiani uccisi 300 chiese incendiate 6.000 abitazioni di cristiani incendiati sapranno di quello che accade in Indonesia sapranno qualcosa in più attraverso questo strumento sapranno anche i cartelloni della festa della croce a Riolo Terme dove dal 23 ci ritroveremo tutti insieme per celebrare questo nostro ritorno all'attività a inizio autunno ebbene sono stati divelti gettati via in un ennesimo gesto di violenza antidemocratica nei confronti del popolo della famiglia lo sappiamo lo sottolineiamo lo denunciamo non sentiamo purtroppo né per Asia Bibi né per i morti in carcere in Pakistan né per il distretto del Carabal né per l'Indonesia e purtroppo ovviamente neanche per noi alcuna forma di attenzione da Gino Strada dai commentatori dei giornali da Laura Boldrini dall'Amnesty International e dunque sappiamo che si può fare tutto ai cristiani e nessuno reagirà però questo c'è stato detto da Gesù Cristo e dunque noi docilmente subiamo ciò che dobbiamo subire e allo stesso tempo combattiamo per far sì che ciò che è ingiusto sia lavato dalla verità e dalla giustizia vi ringrazio davvero e vi abbraccio con con buona non so mi contesta un Peter Ceda tanti saluti abbracci ma di Asia Bibi solo due parole beh insomma solo due parole no abbiamo fatto l'apertura del Quadriano la Croce siamo l'unico giornale penso al mondo che ha parlato di 3.000 giorni di carcerazione di Asia Bibi ci abbiamo fatto tutta l'apertura della puntata di Stampe e Vangelo adesso le contestazioni addirittura che abbiamo detto solo due parole scuola Bergoglio anche con questo accento contro il Papa che sta a me da sempre un po' fastidio insomma ce lo possiamo evitare caro Peter conosco la tua verve polemica te la faccio esprimere con la libertà che assicuriamo a tutti coloro che vengono a seguirci ma non esagerare con le bugie e mi verrebbe da dire una parolaccia ma non la dico perché altrimenti il coordinamento editoriale poi mi banna quello nostro proprio quello interno diciamo vi saluto saluto Angelo Di Matteo saluto Italia Piedimonte saluto Ninnarello un abbraccio a tutti chi cerca notizie per la Sicilia scriva a Nicola Di Matteo Nicola Roma Chiocciola hotmail.com da Mario Adinolfi una buona giornata a tutti Giancarlo Stival dice mi raccomando Mario rompi le scatole in tv e soprattutto con qualche islamico vicino poi proteggetevi però perché poi con questi non si scherza insomma ho scritto un libro che creeranno un pochi problemi firmando il visto si stampi ieri cioè 11 settembre del 2017 non proprio una data a caso diciamo così in cui è stato firmato il visto si stampi di o capiamo o moriamo anteprima nazionale alla festa della croce eh Riolo Terme con Costanza Miriano ore 15 e 30 il 23 settembre al campo sportivo non perdetevi questo grande momento di amicizia prima di tutto con Costanza con tutti voi con chi vorrà scoprire il primo giorno di edizione eh di che si tratta rispetto al nuovo libro quattro anni dopo voglio la mamma che sono riuscito a scrivere nonostante i tanti impegni quest'estate mi sono raccolto un po' diciamo così per riuscire a produrre questo materiale un abbraccio a tutti voi grazie anche a chi scrive per la Puglia riscrivete sempre a Nicola Di Matteo Nicola Roma chiocciola hotmail.com per qualsiasi organizzazione in Puglia dovrei venire a Bari forse già a fine mese per la presentazione di o capiamo o moriamo chiunque voglia fare un'organizzazione di una data della presentazione del libro basta che scrivi ad inolfi ghioccio a gmail.com e la mia organizzazione cercherà di organizzare appunto la serata sul territorio che volete in cui volete fare la presentazione dunque dette tutte queste salutato anche Marco Sciamanna che è arrivato per ultimo alla nostra diretta vi saluto vi abbraccio ci troviamo domani sempre alla stessa ora salutando anche Maria Tomei che ci segue dalla Germania i tantissimi italiani all'estero che ci seguono che saranno fondamentali alle elezioni perché c'è il distretto italiano all'estero dove il voto è determinante quindi grazie anche a voi Maria Verita Boddi dice devi venire a presentare il libro anche a Padova vero anche a Padova certamente troveremo le date voi cominciate a immaginare chi vuole poi mi scrive ad adinolfi gmail.com insieme ai miei collaboratori sicuramente troveremo il modo per fare tutte le presentazioni nelle principali città di questo paese da Maria adinolfi una buona giornata a tutti appuntamento a domani con stampa e vangelo Italia Piedimonte dice non siamo giovani ma vi appoggiamo e vi vogliamo così vogliamo tanti anziani tanta radice tanto popolo che sa quali sono i valori fondamentali accanto a noi nel percorso del popolo della famiglia quindi grazie davvero a Italia Piedimonte a tutti coloro che non sono più giovani ma appoggiano il popolo della famiglia d'altronde non sono più giovane neanche io cara Italia ormai è andata pure la gioventù qua metto la magliettina rosa ma insomma un po' frufru ma qui diciamoci la verità la gioventù è passata da un pezzo Federico Pironi dice pure in Umbria ti vogliamo in Umbria sarò presente già fissato 20 ottobre a Terni già fissata la data di presentazione Umbra del o capiamo o moriamo quindi ci troviamo sicuramente il 20 ottobre saluto anche Danilo Bassano Lucia Stella un abbraccio a tutti appuntamento con Stampe e Vangelo domani alle 8 circa sul popolo della famiglia tv per l'avvio quotidiano del palinsesto della nostra televisione interattiva di partito un abbraccio a tutti